Eccoci, lo ringraziamo moltissimo Alex Ferrari, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Tra l'altro oggi neanche a farlo apposta, la Ferrari ha vinto, la tua di Ferrari, cioè il tuo motore in questo ritiro, come va dopo la prima giornata? Abbastanza bene, comunque ci siamo allenati durante l'estate, quindi siamo arrivati abbastanza pronti e i primi giorni stanno andando bene. Però mi dicevi tu la Ferrari non la segui, anche se ti chiami Ferrari, ma non è obbligatorio. No, purtroppo no, me lo dicono in tanti, ma io seguo più le moto che le macchine. In studio, se non sbaglio, abbiamo Carlo Pernat, che è grande scopritore di talenti, da Valentino Rossi a Max Biaggi, e quindi insomma sei nel tuo e sarà contento di questa tua risposta, anche se è tifoso genuano, ma mi dicono dallo studio che era molto contento della tua risposta. Meno male, dice. Allora, ti salutiamo Carlo. Partiamo proprio da questo inizio, come tutti i ritiri, si fatica, ma mi dicevi poi forse si sarà più affaticati alla fine. Sì, di sicuro l'inizio non partiamo subito a 100 all'ora, c'è l'adattamento è tutto, arriveremo magari a fine ritiro che saremo un po' più stanchi. Tu sei un giocatore che ormai nella sondola ha giocato parecchie partite, stavamo facendo il conto, siamo attorno alle 50, ti senti un po' oggi le bandiere non esistono più, però un giocatore che fa parte di una società in maniera importante? Beh, una bandiera mi sembra esagerato, le bandiere forse possono essere Vialli, Mancini, magari un Quagliarella. Io ancora no, sono cinque anni che sono qua, 50 presenze non sono neanche tantissime, però comunque qua sto bene e voglio restare il più possibile. Ecco, Gianpaolo si affida molto a te, anche per le tue capacità tattiche di guidare la difesa. Già stamattina sono iniziate le esercitazioni, è importante partire dall'inizio con un allenatore che chiede molto per poi ottenere molto in fase difensiva? Certo, perché qua in ritiro comunque metti le basi, quindi partire subito per le due settimane aiuta molto, poi io comunque ce l'ho avuto Gianpaolo quattro anni fa, quindi sono anche un po' più agevolato diciamo. Lo conosci bene così come conosci Collei? Esatto, ma anche con Omar sono quattro anni, cinque con quest'anno, quindi ormai ci conosciamo alla perfezione. Senti, tu durante il ritiro come inganni il tempo quando non sei impegnato ovviamente in allenamento? Ma serie tv, se no stiamo in compagnia con gli altri, con i miei compagni, tanti metodi. Con chi sei in camera? No, siamo da soli. Ah, da soli. Siamo tutti singoli. Bene, è una buona cosa anch'io col mio operatore, siamo in camere diverse per fortuna. Ascolta, sai che la Santuario potrebbe anche cambiare di proprietà, mutare l'assetto societario nel corso di questa stagione. Voi i giocatori siete attenti anche a queste evoluzioni oppure non ci pensate? No, sinceramente non ci pensiamo perché comunque ci hanno tranquillizzato, ci tranquillizzano sempre ogni giorno, quindi a noi obiettivamente conta il campo, noi ci concentriamo sul campo e per noi conta solo quel rettangolo lì. Prima di girarti qualche domanda dallo studio, ti chiedo ancora, sarà un campionato molto agguerrito, ci sono squadre come il Monza che è difficile a considerare matricole, quindi forse ci sarà da soffrire ancora di più quest'anno o no? Eh sì, non sono molto attento al mercato, devo dire la verità, però ho dato un occhio in giro e sembra che il Monza stia spingendo tanto, sta facendo tanti acquisti di valore, di qualità, quindi sarà un po' un campionato anomalo secondo me, noi comunque ce la metteremo tutta perché vogliamo fare un campionato diverso l'anno scorso con meno fatiche e salvarci il prima possibile. Domande da studio Giovanni? Stefano Risetto, c'è una domanda per Ferrari. Quanto è importante cominciare con Giampaolo dopo che l'anno scorso invece era arrivato a metà stagione e soprattutto ti è sembrato giusto che ti sia stato dato contro quel rigore nella partita che ha deciso la stagione? Sì, chiede il collega Stefano Risetto se quel rigore che ha deciso la stagione ti sembra che sia stato giusto avertelo dato contro, perché insomma poi l'ha decisa positivamente per la Samp, ma poteva costare caro e francamente è sembrato un rigore molto generoso. Eh purtroppo anch'io penso che sia generoso, ma con le regole di adesso era obbligatorio darlo, soprattutto col VAR che aiuta gli arbitri in queste occasioni qua, quindi era giusto darlo e a questo punto, come mi hanno detto anche molti tifosi, è stato più bello. Questo ti fa onore obiettivamente, l'avresti detto lo stesso anche se Audero non avesse parato? Non per noi. Eh purtroppo sì, perché il calcio è questo. Fa onore però Alex Ferrari questa risposta. Fai un rigore senza volerlo. Sì, sì, infatti anch'io gli ho detto che insomma gli fa onore la risposta e ha detto che l'avrebbe data anche nel caso in cui Audero non l'avesse parato, perché quel che è giusto è giusto e quindi da calciatore riconosce. Peraltro per voi difensori, ecco queste regole sono molto difficoltose, vi creano tante difficoltà perché basta che un attaccante vi tiri il pallone addosso, state attenti anche a queste sfumature. Sì, da quando è arrivato soprattutto il mister Giampaolo abbiamo lavorato molto su queste cose qua, sulla gestione degli albitri e di queste occasioni qua, però obiettivamente è difficile quando succedono quelle cose lì evitarle, perché se ti tirano da un metro addosso sulla mano non hai tempo di reazione di levarla, però è comunque giusto dare rigore perché hai fermato un'azione da gol. Ti devi arrendere, hai parlato di Quagliarella, tu in allenamento lo affronterai da avversario tra virgolette, è un esempio che cosa rappresenta un giocatore come Quagliarella che alle soglie dei 40 anni inizia una nuova stagione di Serie A? Fabio è un esempio dentro e fuori dal campo, da Fabio puoi imparare tanto, poi soprattutto per la carriera che ha fatto è un grande giocatore, un grande uomo. Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme per 5 anni e in allenamento mi ha fatto crescere tanto, dandomi consigli ma soprattutto giocandoci contro, perché ha movimenti da grande attaccante, quindi non gli si può dire nulla. Se avete un'altra domanda da studio Giovanni siamo qui. Ci provo io a fare una domanda, se puoi girare la Ferrari, chi è l'attaccante del campionato italiano di Serie A che l'ha messo più in difficoltà, che lo ha spaventato di più, che lo ha preoccupato di più, se fa una classifica. Quali sono gli attaccanti del campionato di Serie A che creano più problemi a un difensore come te, insomma, gli spauracchi? Ma adesso che è tornato Lukaku secondo me è uno dei più papabili, poi che ci sono adesso in Serie A, Lautaro e Lukaku secondo me sono quelli che creano più difficoltà. Quindi vedi anche l'Inter, Scamacca mi chiedono allo studio per esempio? Ma Scamacca l'ho affrontato forse in un momento che non era al 100%, quindi non posso valutarlo bene. Poi sei stato bravo tu a marcarlo? Può anche essere, però comunque c'è molte richieste in giro, soprattutto c'è una richiesta del PSG, quindi credo che abbia dei valori. Sicuramente sì, le squadre che vedi più o meno come valori all'altezza della Samp? In questo momento poi c'è il mercato aperto, può succedere di tutto, chiunque può indebolirsi o rinforzarsi, ma allo stato attuale dovessi fare una griglia di chi lotterà, per quali obiettivi, come collocheresti la Samp? Bella domanda questa, non glielo so dire come collochererei la Samp, noi lavoriamo per arrivare, per fare sempre più punti possibili, per migliorarci sempre e ripeto, per non fare lo stesso campionato dell'anno scorso, ma migliorarlo per arrivare almeno dalla parte sinistra della classifica. Ripercorrendo un attimo, ma molto velocemente, il campionato scorso, che cosa non ha funzionato? Qual è stato l'intoppo che ha complicato la stagione? Forse anche gli infortuni degli attaccanti, perché essere privati di colpo di attaccanti importanti come Damsgaard, Gabbiadini, insomma non è stato facile, Giovinco che non ha potuto dare una mano. Sì, certo, sicuramente gli infortuni hanno inciso tanto, perché ci è mancato Gabbiadini in un momento importante dove stava bene, ci faceva tanti gol, ci ha fatto, Damsgaard che diciamo veniva da un europeo, quindi stava bene, era in forma e ci è mancato, ci è mancato anche Fabio Quagliarella in un momento particolare, comunque gli infortuni hanno inciso tanto e poi altre cose che purtroppo piccole cose messe insieme diventano un grosso problema. Senti, invece tra i difensori, abbiamo parlato di attaccanti, tra i difensori chi sono i tuoi modelli di riferimento? Ma io ho sempre avuto come modello Cannavaro e Nesta, sono sempre stati i miei idoli, però devo ammettere che il mio idolo in giustizia è sempre stato Totti. Totti come calciatore in quanto tali? Calciatore come bandiera, perché a me è sempre piaciuta questa cosa della bandiera e lui che ha iniziato e finito in una squadra, per me è sempre stato un eroe. Secondo te il calcio potrà tornare un po' anche a recuperare questi valori che si stanno in parte perdendo? La mia speranza è quella, però la vedo molto dura per come si stanno mettendo le cose, perché ormai il fatto delle bandiere non è più scontato, perché è diventato molto, come posso dire... Un calcio in cui si cambia abbastanza velocemente, squadra per mille ragioni, ci sono tante squadre, tanti giocatori, rose amplissime. Esattamente così. Un po' diverso rispetto al passato. Carlo Pernat, non so se hai una domanda per Alessio, visto che hai esortito... No, no, io faccio un po', che è incredibile, tengo un po' la bandiera alta della Sampdoria che mi dici, sono diventato matto, ma io credo che incominciando con Gianpaolo subito, e poi se devo dire la verità, poi la squadra non è una bella squadra, cioè non è una squadra sulla carta da salvarsi, ma sicuramente, se incomincia con Gianpaolo e tiene tutti questi giocatori, ragazzi, vorrei averle io, le punte che è la Sampdoria, vorrei avere i difensori, vorrei avere il centrocampista... Sì, tu la vedi, la vedi... Sì, onestamente, mi dispiace dirlo, ma è così... No, no, però sei onesto, ti fa onore anche a te, a te Maurizio, per tradurre, insomma, per girare la domanda. Sì, dice Pernat da manager, lui, motociclistico, però insomma, si intende anche di organizzazioni di squadre, tutto sommato, se la Sampdoria riesce a non stravolgere l'ossatura e a recuperare pienamente i due attaccanti di cui parlavamo, in particolare Damsgaard e Gabbiadini, con certezze come te, Collei, Augello, altri giocatori, potrebbe comunque davvero, partendo dall'inizio con Gianpaolo, dare un'impronta da subito diversa al campionato, anche se l'avvio è duro, il calendario è impegnativo. Eh sì, ma ormai sono due o tre anni che abbiamo degli avvii duri, però comunque, cioè ripartendo subito comunque con un mister che conosciamo bene, perché l'abbiamo avuto per sei, quattro, cinque mesi più o meno, che io l'ho avuto anche quattro anni fa e riesce subito a mettere la sua impronta di gioco, secondo me possiamo subito mettere, partire bene col campionato. Un'ultima cosa, nelle ultime partite si è sentita molto anche la spinta dei tifosi al Ferraris, sono tornati a popolare lo stadio, a tifare in maniera importante, quanto può contare l'effetto Ferraris, la spinta dei tifosi per vincere quelle partite decisive? Ma è tantissimo, perché Amarassi quando vogliono farti vincere una partita te la fanno vincere, secondo me. Mi ho ancora in mente il boato quando ha parato il rigore Audero e ho ancora i brividi, mi vengono i brividi, quindi Amarassi è unico, come dice il mister, a Amarassi può succedere di tutto. Tu invece in quel momento del rigore cosa facevi, l'hai guardato o non l'hai guardato, cosa provavi? Ma ti do la verità, io avevo la sensazione che lo parasse, io ho guardato Emy e ho detto stavolta lo para, stavolta ci salviamo, ci salviamo qua, anche se subito appena ho visto che andava contro l'arrivare tutto ho detto ecco, ecco che è successo, no però dopo che ha posizionato la palla ho visto in faccia a Emy e avevo la sensazione che lo parasse. Insomma questa è stata una previsione che poi si è avverata, evidentemente la tua sensazione era affondata. Siamo in chiusura a livello personale, cosa ti aspetti da questa stagione? Forse un po' più di continuità, dicevi prima, giocare qualche partita in più perché te la sei meritata. Io sì, io mi metto sempre a disposizione del mister, della società e di tutti, il mio obiettivo è sempre quello di trovare più continuità possibile, di fare più partite possibile al meglio delle mie possibilità, quindi è questo il mio obiettivo di ogni campionato diciamo. Al netto delle scelte che vanno rispettate di qualunque allenatore, tu come propensione preferisci più fare il centrale o il terzino adesso? Ormai il centrale forse. Ti voglio dire la verità che non c'ho molta differenza tra i due ruoli. Adesso lavoro come centrale perché il mister mi vede più come centrale, a me va benissimo, però se in un certo occasione dovessi fare il terzino non c'è nessun problema. Insomma essere utili nel calcio di oggi aiuta molto. Noi saremo in conclusione, ringrazio moltissimo Alex Ferrari per questa chiacchierata, in bocca al lupo, buon ritiro naturalmente. Crepi, grazie mille a voi. E buona stagione.